Avviata dall'Asra di Salerno la procedura di gara per l'acquisizione di nuove attrezzature che andranno a completare la funzionalità delle sale operatorie dell'ospedale civile di Agropoli, destinate all'attività di day surgery e recovery room per l'osservazione post-operatoria. Le nuove apparecchiature che saranno presenti nelle sale operatorie agropolesi comprenderanno una colonna per la paroscopia 3D, un apparecchio per lavaggio e disinfezione, due autoclave, un carrello di emergenza, un frigorifero biologico a singolo anta, una termosaldatrice, un apparecchio per anestesia, un tavolo operatorio, un ventilatore polmonare e un ventilatore polmonare da trasporto, degli elettrobisturi, una lampada scialtica, un letto elettrico per degenza, un monitor, una pompa a siringa. Il costo complessivo per l'intera fornitura è pari a 509 mila euro. Questa notizia però non rasserena gli animi dei cittadini, infatti alta è l'attenzione da parte degli agropolesi che a distanza di anni ancora non si sono rassegnati alla chiusura del pronto soccorso che di fatto non fa rientrare Agropoli nella rete dell'emergenza e infatti di alcuni giorni fa la richiesta di una petizione online indirizzata al Ministro della Salute e la discussione dell'ospedale in un consiglio comunale monotematico voluto dai consiglieri di opposizione Abate, Botticchio e Caccamo.